Ciao a tutti, siamo gli Islam Purchese, io sono Bolo Sando, veniamo da Brescia, da Crema e Cremona, ci piace suonare la musica, fare casino e bere birra, diciamo che sono i nostri tre componenti fondamentali, ringraziamo Pier per averci accolto nel suo studio, nella sua famiglia e niente, a posto e suoneremo due pezzi. Uno verrà mandato prima, uno verrà mandato dopo, e tra l'altro voi non sapete neanche ancora che verrà mandato dopo, quindi verrà mandato dopo, però ci ne sarà uno che verrà mandato dopo, e non diterò nessuno. Ciao a tutti, buon ascolto, ciao! Ciao a tutti! 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 Ciao a tutti!